salve a tutti ragazzi e benvenuti a Sive questo è un nuovo video di Zonadet bene ho fatto quello che avevo detto l'ho trasportato poco dietro poi mi l'ho messo in stealth e l'ho messo a dormire giù adesso andiamo a fare gli altri piano piano li facciamo tutti perché io voglio a più di tutto prendere le risorse che mi daranno e poi capirci un po come fare questo secondario la allora questa secondaria che attiva attiviamo adesso siamo a posto qui mi fai aprire ok cosa mi hai dato aspetta camper e club prima di entrare nella sala di ignoni aspetta camper e carnov prima di entrare nella sala di ignoni ok sono solo gruppi di bambini che si divertono a giocare avvelena un entrambi bicchieri fatemi leggere allora aspetta va bene però questa qua non letale la marciata dell'eretico vedere che mi ha messi delle altre al loro facoltativo risparmia capitano cornau sicuro tecchi capirà con la sopravviva la sua visita in ufficio per cui scegli archivi ok come faccio avvelena e vedi che facoltati avvelena avvelena uno o entrambi i bicchieri nella sala di ignoni se io li avvelena tutti e due mi muore quell'altro come cazzo faccio a capire cosa devo fare adesso è bel cazzo di casino il primo dice di rispettare il primo dice che stiamo passando al setaccio i distretti o vera ragazza la lista è piena di risorse probabilmente ha trovato un posto sicuro allora scambia il bicchiere avvelenato con quello di campel ok se io li mischio diminuisco il veleno oppure vuoi tutti e due allora cambia perché dice di è andato con quello di campel si d'altro campel deve morire spero parteciperete spericheremo la faccenda rapidamente perché io avvelen entrambi non lo posso fare perché così mi muore il tipo sicuramente che il capitano sopravvive ok così sono sicuro che sopravvive chiusa sarà entrato qualcuno della servitù vediamo un po' ho la chiave sbagliata questa no no ok io spio adesso torneremo da voi quando avremo finito nel frattempo fatevi compagni perché la situazione è diventata così odiosa ma sono d'accordo muore una puttana e guarda che succede vuoi un po' di vino? è un rosso di tibia grazie ora gli affari cosa credi sia successo ieri notte? sinceramente non ne ho idea i miei uomini, i tuoi sacerdoti, alcune prostitute forse è troppa birra uno scherzo innocente con un pollo e dieci minuti dopo Trivers Alley e un bagno di sangue avrei voluto esserci non esagerare, vecchio sto bene, Carnau mi è andato di traverso stavamo parlando di quei sacerdoti sono colpevoli quanto i miei uomini se non di più ma hanno una reputazione da proteggere non posso permetterti di... oh no è impossibile chi è... non c'è tempo ascoltami devi... dirmi di bruciare il libro nero hai capito? bruciarlo il libro nero cosa dici? di nero affertili e poi muori e c'è e lui doveva rimanere vivo, no? non ho capito, scusate allora allora, facoltativo contamina la peste e niente assicuro di che abitano al corso però viva alla visita dell'ufficio dell'altro sacerdote e sono sicuro che si è provvissuto perché è andato via e basta non ho capito scusatemi adesso riprovo ok ho fatto quello che ho fatto prima però vado via perché voglio vedere l'istruzione per la macchina allora fatemi vedere allora questo qua lo togliamo per il momento no nascondi risparmi al capitano va bene intanto lo è sparmiato e questa qua vediamo cosa mi dice è di qua oh porca vacca non avevo visto che c'è un altro scusatemi ok perfetto qui siamo a posto lo mettiamo qua e vado a vedere questa cosa perché non ho mica capito ok è di sopra a 21 metri quindi ci deve essere un qualcosa altro sacerdote lì ok e questa qua è istruzioni per fatemi vedere dov'è perché non ho capito casso allora di qua avrei voluto esserci intanto salviamo un attico eh perché insomma ok qui tanto stanno ancora parlando cazzarola oddio mi sono incastato ok calma tanto questo ritornerà indietro adesso perfetto eh santa miseria scusatemi avete ragione eh insomma c'è la pazienza allora di qua devo stare attento andiamo un po' calma eh un attimo solo che ce la faccio ne sono abbastanza sicuro ok ok ce l'ho fatta perfetto andiamo qua e vediamo devo portarlo perché non lo so neanche io eh che miseria ok ok allora qui è qui dove c'è un cazzo di casino ma io devo andare e quando sono tornato indietro è tutto salvo perché eh devo capire scusate ma è un cazzo di casino e allora sì allora che è un nuovo salvataggio devo andare di qua perché non dovrebbe esserci più nessuno forse all'esterno suonano suonano suono allora la missione non me la dà più però fatemi vedere allora questa è la ok risparmia crove che l'ho risparmiato assicurati che caffè della crove sopravviva alla sua visita all'ufficio del salvatore e io sono sicuro che sia sopravvissuto perché quindi me l'ho tolta non ho mica capito un cazzo sacerdote saccheggia perfetto e va bene per carità però non ho capito un cazzo del capitano crove fatemi vedere assicurati che il capitano crove come mi assicuro che il capitano crove è faccio un attico boh non lo so ragazzi sinceramente capitano crove dopo ci vado faccio vedere un attico ok oh porca vacca mi sono spaccato le corsie ma cosa devo fare questo capitano crove devo assicurarmi che sia salvo lui sta scappando quindi sono sicuro che sia salvo è scappato bella fatica ok oh me l'ha data meno male che troia ok un attimo solo sistemiamo un attimo questo siamo a posto sappiamo che è meglio siamo a posto oh mamma mia questa missione è stata un veramente un delirio perché c'erano tante modi per farla tante cose da dire e quindi siamo a posto dai dai ce la facciamo porta per Sam quanta gente c'è ancora ok non mi ha visto quindi questo però mi vedrà facciamo così ok va bene eh va bene il cazzo mi sa che mi ha visto porca vacca scusate devo usare il teletrasporto c'è da fare è che non mi ha aspettato tutta questa gente qui qual è il problema mi tocca farla fuori piano piano eh vabbè volevo fare in fretta la fretta non è mai buona consigliera porta sempre male calma calma e li facciamo fuori comunque ci dà delle risorse a me mi interessa prendere le risorse eh si 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 girasse ok perfetto ok ti lascio qua così almeno non ho più i marroni forse è meglio è meglio prenderlo ok cazzo è pieno di gente qui piano 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 salva e andiamo con molta cautela vediamo se ce la facciamo mamma mia che angoscia che ansia che ho diamo un po' questo qua questo qua devo vedere come fare per non farmi prendere intanto facciamo una cosa vagamente intelligente facciamo così ok siamo a posto ok stasera ci vediamo per un sigaro e un whisky non ne dubito bel problema non so come fare cioè sono lì a meno che non faccio possessione e ci provo dai facciamo possessione vai perfetto almeno così dovrei farcela speriamo eh perché se no non so proprio come fare oh porca vacca muori l'urida palla di pelo grazie eh e niente qualcuno venga qui sì sì arrivo arrivo sì vai ce l'ho fatta continuo vi prego è mia sorella non è una strega ve lo giuro fuori dai piedi ti aspetti un trattamento di favore solo perché è tua sorella deve bruciare usate eh voglio capire bruciare bruciare come tutte le streghe Bertold non farmi prendere giuro di non aver e niente non so che fare senza senso allora calma eh perché posso usare i dardi perché purtroppo non so cosa aspettarmi allora facciamo una cosa vagamente intelligente intanto questo facciamo così e poi il dardo il dardo è qua ok è andata sei spuntato fuori dal nulla se non fosse stato per te saremmo morti ti saremo sempre debitori non so come ringraziarti porterò al sicuro mia sorella ma prima credo di sapere come ringraziarti nel dormitorio c'è una cassaforte la combinazione è due zero tre prendi ciò che vuoi e buona fortuna ok vedete che è una buona azione va sempre bene scusate il dormitorio il dormitorio sarà questo immagino due zero tre se non ricordo me la devi avere scritta però insomma disimissione due zero tre la combinazione è la cassaforte nel dormitorio quindi io come lo vedo il dormitorio niente niente non ti preoccupare che vacca si ma cazzo però eh si può essere più stronzi prendi dove vado mi trattano male qui non lo so vediamo un po' se così si può fare due zero tre dormitorio fammi trovare sto cazzo di dormitorio ok perfetto ok doveva aver preso una chiave almeno così sembrava perfetto al dormitorio a questo punto ci provo che sia questo allora vediamo un po' raccogli ok una chiave perfetto questo ottimo eh piano piano dai si fa tutto insomma eh gioco un po' così bisogna prendere la mano abbiate pazienza allora vediamo un po' tante gampane però non mi sembra un dormitorio questo insomma neanche la cassaforte mi sembra di vedere andiamo andiamo no questo per me non è un cazzo proprio così schiettezza allora dormitorio dove cazzo non lo sarà ok questo mi interessa allora se noi l'abbiamo trovato qua vuol dire che il dormitorio deve essere qui vicino cioè non è che può essere tanto lontano insomma la chiave per il dormitorio cioè la combinazione per il dormitorio eh non è che c'è tanta roba eh vabbè faccio un giro vi faccio sapere perché qui io non lo vedo siamo arrivati da Samuel cazzo mi dice che c'è un dormitorio io voglio vedere dov'è eh per Samuel ok infatti mi vedeva che sono curioso perché cazzo non ho visto che c'è la gente eh va bene ragazzi facciamo che salvo carico e ci vediamo fra poco dai ok sono ritornato dove ero dove ci avevano visto vediamo un po' se riesco ad andare di sopra c'è qualcosa raccogli ovviamente non posso allora usiamo questi così almeno siamo a posto e andiamo da Samuel perché a questo punto non penso quando troverò questo dormitorio vedrò e troverò una cassaforte ci penserò però per il momento salvo che è meglio salvare oddio quanti li ho creati e vediamo come fare se riesco a non spazzarmi le corsie ok chiave della botola richiesta ok scusate non sono un po' teso per cazzo devo andare da Samuel di là allora fatemi vedere qui cos'è c'è tanta tanta roba che mi interessa prendere cioè praticamente sto rubando le cose tutti quanti fatemi capire questo non è un dormitorio perché ah può darsi di sì però sto pensando scusate ok ok lo mettiamo qua adesso andiamo da Samuel ok Samuel dov'è di qua diamoci di corsa sperando che non ci sia troppa gente io voglio capire anche dove cazzo sono porta infangibile ok potevo entrare di là però ok e siamo di qua ok ce l'ho fatta mamma mia Samuel dov'è di qua ok ce l'abbiamo fatta mamma mia che fatica c'è un'ansia incredible ma porca vacca sì sono io se mi fanno scendere sì sono io sono tutto intero ce l'ha fatta devo trovare quel dormitorio però lascia ok eh non so sono qui da quel che ho sentito Campbell ha avuto una vitaggiata forse non dovrei dirlo ma un uomo di fede non dovrebbe vivere da varone sei pronto? eh sì che sono pronto scusate da mezzo d'alque c'è pronto qua bene andiamo allora vediamo un po' questa questa manche come l'ho fatta nemici uccisi e quando cazzo l'ho ucciso un nemico io? ah giusto quello per salvo no io l'ho usato il narcotico boh non ho capito scusate ah beh il Campbell giusto quello l'ho ucciso per volta perché l'ho allenato allora caos totale valore attuale basso va bene nessuna uccisione perché come facevi a fare non so ho capito fantasma mai scoperto va bene tutto a posto ah non ho visto cosa non ho preso vabbè pazienza e siamo a posto avlok e lord pendleton sono nel cortile vorranno congratularsi con te allora fatevi vedere l'altro sacerdote Campbell è stato rimosso dalla sua posizione all'alleato dei learisti il sacerdote martiri è stato liberato ok questa è vivo grazie corvo grazie mio zio è un bravo uomo e lo dimostrerà tieni hai agito senza secondi fini accetta questa ricompensa un cimelio di famiglia donato mi dà una zia beh c'entro manette mi va benissimo e ragazzi direi che ci possiamo anche filmare qui per questo video è tutto video come solito anche commento vi piacerebbe di farmi sapere cosa ne pensate per la saluta ciao ciao